Allora, questo libro qua, come è nato? È nato che io avevo bisogno, ho bisogno, quando faccio il perito per gli infortuni, faccio il perito della difesa, non faccio il castigatore, non mi piace fare il perito per la procura, me lo propongono ma non è nelle mie corde, ognuno deve riconoscere le sue cose, a me piace andare in una fabbrica e sentirmi salvatore da dotore di lavoro, mi sento proprio l'angelo salvatore e così, e allora la storia classica storia che succede è, io vado in una fabbrica, quella macchina è stata comprata negli anni che furono, è stata inglobata in altre macchine, è diventata una linea, è stata modificata più volte, è stata rimarcata cie, non è stata rimarcata cie, ci sono varie fantasie, ma ha sempre una sua storia e questa storia percorre varie direttive, la 98-37, la 26-42 e un domani il nuovo regolamento a macchine, 12-30, bisogna fare il numero della tombola, e quindi magari tu quando succede un infortunio devi guardare qual è il nesso causale, cosa ha cagionato la morte di qualcuno, che abbia perso un dito, che abbia perso una mano, che abbia perso un braccio, e quel nesso causale investe alcuni requisiti essenziali di sicurezza, non tutti i requisiti essenziali di sicurezza, e quindi ti dice, ma quando l'anno vendita, se ti fanno il costruttore, tu guardi l'anno in cui l'hanno venduta, non guardi l'anno in cui è successo, l'infortunio, se invece difendi l'utilizzatore, guardi l'anno in cui è successo, se difende l'impiantista, guardi l'anno in cui ha fatto una modifica, e devi guardare se doveva essere marcata o non doveva essere marcata, servizio era palese, servizio era occulto, allora io faccio così, vado al resto che mi interessa, uno a caso, e vedi, io faccio così e mi leggo le tre versioni, questa cosa qua serve a me, non è, serve a me e tutti gli sbirri, perché nel senso, non faccio la stessa medaglia, e quindi banalmente ho pensato, perché non posso venderlo, perché non lo posso fare anche per gli altri, perché mi arrivano un sacco di richieste del genere, e quindi me lo sono fatto a quattro, perché così vado in officina, come siamo qua, lo appoggio e me lo leggo, deve essere grosso, non può essere elettronico, elettronico non funziona, non è maneggevole, non posso pasticciarlo, capite? e all'inizio ci ho messo, vabbè oltre all'indice, con tutti gli allegati, cosa sono, cosa fanno, perché uno dice, ma che allegato è la dichiarazione di conformità, ci abbiamo messo, vedi il nome dell'allegato e il titolino, perché se no devi andare a memoria, dice, cazzo era la dichiarazione di conformità nella direttiva dispositivi medici, io me le ricordo tutte, sono i miei trucchetti per vivere meglio, e all'inizio abbiamo messo, vedi, la spiegazione di tutto quello che è cambiato è col QR, il QR manda il video YouTube dove raccontiamo l'approfondimento di quel particolare lì, volevo farlo più corposo, sono già 600 pagine così, cioè già è una roba, è un'arma sto roba, questo lo puoi tirarla e picchiare qualcuno